Buongiorno cari followers Che tipo di personaggio sarei io? Dove voglio arrivare? Ricorda sempre Da un grande potere derivano grandi responsabilità Mi sembra incredibile Marilla Terrorismo è successo di nuovo Vi domanderete Ma perché tutto questo? 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 Siete pronti a quelle larmi? Siete pronti a vedere chi ha ragione fra me e voi? Attraverso le arti mistiche imbrigliamo l'energia Ho questo! Ti posso fare un culo grande come una gabbana Non devo essere mandato all'inferno come mi dice lei Ma che stai a dire? Non me ne frega un cazzo di quello che pensi te va bene? Chi sono i paperoni italiani BQ? Se qualcuno non è amico mio non è un problema Uomini più forti di te hanno smarrito la via Non è una cosa su cui scherzare Morirai proteggendo il mondo Vendicami! 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 Grazie a tutti.